E ora al lavoro bello. Riscopri le tradizioni e i protagonisti delle nostre campagne. Trattori da collezione. Oh è bello questo collezione, non mi piace. Modelli storici, imperfette riproduzioni fedeli in ogni dettaglio. Hmm bello, è quanto grosso. Prima uscita il Super Landini, solo 2,95 euro. A Shet. Ah è vecchio, è sciuto già. Non so che è remoto.